Buongiorno popolo di signora, conosciamo tutti la situazione difficile che sta vivendo l'Italia intera, in particolare in Nord Italia. Ahimè questa situazione si sta sforzando al sud e purtroppo ha raggiunto, come sappiamo, anche la nostra città. Non è una normale influenza, è molto aggressiva e ciò sta causando un intasamento degli ospedali del nord che sono ormai al collasso. Purtroppo le nostre strutture ospedaliere non sono all'avanguardia come quelle del nord perché, nonostante ciò, stanno avendo forti difficoltà nel curare tutte le persone che arrivano in ospedale a causa dell'emergenza. Il nostro ospedale necessita di un grande aiuto da parte di tutti noi. Qualche giorno fa ho contattato il primario del reparto di reanimazione, il dottor Dario Galante, e gli ho chiesto cosa servisse urgentemente al reparto. Subito io e mia moglie ci siamo attivati per l'acquisto del macchinario richiesto, un most care. Oggi finalmente abbiamo eseguito il bonifico. L'ospedale di Cerignola riceverà il macchinario entro 48 ore. Perché sono qui a lanciare questo messaggio? Non vogliamo pubblicità, non ci serve. Invece vorrei rivolgere un appello a tutti gli imprenditori di Cerignola. Prendete il telefono e contattate i vari reparti. Domandate cosa serve. L'ospedale di Cerignola ha bisogno di noi. Colgo l'occasione per mettermi a disposizione nel creare una raccolta fondi in maniera tale che tutti i volenterosi abbiano la possibilità di aiutare il nostro ospedale, così come ho fatto io e mia moglie. Spero di cuore che il nostro gesto sarà di esempio per tutta la nostra comunità. Grazie.